Dal mare Toscano al supermercato Toscano, una filiera corta che unisce i fornitori locali e la qualità garantita dal marchio Copp. Il viaggio di Orate e Branzini del Banco Pescheria inizia infatti qui, dal Golfo di Follonica. Protetti dalle mareggiate grazie ai promontori di Puntala e Piombino nuotano Orate e Branzini, un allevamento a due miglia e mezzo dalla costa all'interno di gabbie galleggianti realizzate in rete. Questi sono gli uomini dell'ittica Golfo di Follonica in azione. L'azienda porta sui banchi delle pescherie di Unicop a Firenze 220 tonnellate di pesce ogni anno, garantito dal marchio Copp. Il pesce cresce in un ambiente naturale, in una gabbia che lo ospita, permettendogli di nuotare di continuo e quindi bruciare la parte grassa e favorire le parti proteiche del pesce. Il pesce cresce lentamente e nuota nel suo habitat. È più magro rispetto a quello allevato a terra, è ricco di omega 3 e ha caratteristiche del tutto simili al pesce pescato, con il vantaggio che la sua alimentazione è controllata. Unicop a Firenze punta sui fornitori toscani, anche per Orate e Branzini. Questi prodotti che sono presenti nei nostri banchi dal 2000 al 2009, siamo riusciti a farli produrre in Toscana dall'ittica Golfo Follonica, che produce per noi e di conseguenza siamo riusciti ad unire i valori del prodotto a marchio Copp in termini di alimentazione, in termini di gestione delle biomasse, eccetera, con il localismo. E poi c'è il vantaggio della freschezza. La filiera si esorisce nel raggio di 100 km, fatto che garantisce arrivi quotidiani sui banchi del supermercato. Dal momento della pesca, che avviene la mattina presto, all'incassettamento, da l'ora alle due ore, il pesce è già pronto per essere spedito ai punti Unicop. Da anni Unicop Firenze ha scelto di proporre sul banco solo pesce allevato in mare. Ci sono regole ben precise da seguire per avere il marchio Copp. I mangini sono selezionati e approvati. Non c'è alcun uso di antibiotici. La salubrità del prodotto è assicurata. Nel 2004, rispetto ai prodotti a marchio Copp, noi accettiamo solo prodotti allevati a mare, non prodotti in vasca e a terra. Di conseguenza non si parla di ossaginazione forzata, non si parla di costrinzione di questi pesci in spazi più angusti, ma di biomassa che non superano mai i 20 kg per metro cubo di acqua. La nostra lavorazione giornaliera consiste nel dare un alimento al pesce per il suo accrescimento, un alimento selezionato da Copp, quindi un alimento che presenta tutte le caratteristiche per far sì che il pesce possa crescere bene come dal protocollo Copp. Il pesce fresco a marchio Copp si trova in 51 pescherie di supermercati e superstore Unicop Firenze in 7 province toscane. E adesso, questa novità, arriva il venerdì e il sabato in 8 minimercati in Copp, i piccoli punti vendita accanto a casa.